Dai dati sulla scuola dell'infanzia salernitana emerge una crisi demografica che investe tutta la provincia. Il mattino di oggi riporta il dossier dell'ufficio scolastico regionale che ha appena chiuso le operazioni di inserimento anagrafico e ha definito quindi l'organico che comporrà scuole e plessi dell'infanzia da settembre prossimo. Il quadro è nero soprattutto per quel che riguarda i plessi scolastici del sud del salernitano, dove ci sono 48 scuole a rischio chiusura perché contano otto alunni o addirittura meno. Cinque scuole non hanno dichiarato iscritti, si tratta del plesso dell'infanzia di Tortorella, Colliano, Laureana Cilento, Casalvelino, San Mauro Labruca, San Nazario. Gli altri numeri non sono più incoraggianti, otto alunni si sono iscritti al plesso di Ricigliano, Caselle Impittari, Rocca Gloriosa, Piaggine, Felitto, Furore e Castellabate. Al plesso di Camerota sette bambini in tutta la scuola così come a Celle di Bulgheria, Bello Sguardo, Cicerale e Stella Cilento. Al plesso Dogana del comprensivo di Oliveto Citra invece sei come a Cuccaro Vetere, Sanza, Gaiano di Fisciano, il plesso Malche di Gifoni Seicasale, il plesso di Pantano di Teggiano e Stio. Mentre cinque bambini al plesso di Acquavena, Pertosa, Roscigno, Foria e Magliano Vetere. Vanno peggio le cose al plesso di Orria, Ogliastromarina, Molina di Vietri con tre bambini, Torraca di Sapri e Rofrano con due. Al plesso di Laurito invece risulta dal report dell'ufficio scolastico regionale che un solo bambino di quattro anni dal prossimo settembre barcherà la soglia di una scuola pubblica.